bene questo è quello che non si deve fare quindi praticamente rubinetti aperti continuamente uno due tre tutti i rubinetti sempre con l'acqua aperta non si fa invece io lo faccio perché sono un po cazzaro quindi mi lavo i denti e tengo l'acqua aperta butto un pezzo di carta nel gabinetto e continuo a tirare l'acqua la doccia l'accendo l'apro scusate l'accendo e la luce invece poi esco vado a cercare lo shampoo che tanto non mi serve quindi sono uno sprecone di acqua meno male che poi c'è mia moglie che è idrocivica e un certo punto si sente fare così è che è mia moglie che viene a chiudere tutta l'acqua dicendomi che sono uno sprecone quindi non fatelo ma tenete a mente l'acqua che è un bene preziosissimo donato e quindi dobbiamo farne un buon uso state allegri ma notte al secchio guarda che pelata vedi però già non uso il forno quindi non consumo